Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Parleremo a breve dell'inizio delle terze dosi per chi ha più di 40 anni. Si potrà prenotare dal lunedì prossimo. Le vaccinazioni per chi vorrà partiranno dal primo dicembre, ma in questa edizione vedremo anche le immagini della fiera del cioccolato che si sta tenendo a Bologna, al Ciocco Show. Un appuntamento molto atteso, ma purtroppo dobbiamo iniziare parlando di cronaca e di argenta, perché qui questa mattina c'è stato un minuto di raccoglimento ed è una giornata di lutto cittadino. Ed è stato quello proclamato dal sindaco Andrea Baldini, bandiere a mezz'asta a mezzogiorno ed è stato appunto osservato un minuto di silenzio da tutta la comunità argentana, che è ancora molto scossa dalla tragedia dell'incidente di martedì sera in cui sono morte Maria Luisa Sibiglio e Paola Carrozza, 20 e 21 anni di Alfonsine e di San Biagio. Elisa Di Bona, amica e coetanea, è rimasta gravemente ferita e si trova ricoverata all'ospedale di Kona. Mercoledì mattina l'altro incidente mortale sulla statale 16 in cui a perdere la vita è stato Peaduru Merekna, 33enne originario dello Sri Lanka. Oggi è lutto cittadino perché tutti si stringano alle famiglie colpite da questi fatti tragici per le quali non riusciamo a trovare le parole. Questo ha detto il sindaco Baldini. E ora cambiamo totalmente argomento e parliamo di economia perché sono 45 i firmatari del patto Focus Ferrara, presentato ieri in Castello un percorso iniziato lo scorso 18 febbraio, obiettivo intercettare la nuova stagione di finanziamenti dal PNRR ai fondi europei da tradurre poi sul territorio attraverso progetti che diano sostegno e slancio alle imprese, ma non solo, presenti alla firma anche le autorità regionali. Sentiamole. Qui c'era stato chiesto, io credo giustamente, di prenderci un impegno. Non perché questo territorio sia un territorio sfortunato, ha tante eccellenze che sono anche punti di forza che adesso dobbiamo esprimere, ma certamente un territorio che storicamente corre un pochino meno veloce del resto dei territori dell'Emilia-Romagna, ma che, ripeto, ha tutte le caratteristiche e le potenzialità, se insieme lavoriamo bene, per recuperare e correre veloce anche qui. D'altra parte, lo dicono poi anche i numeri della crescita, perché se ne andiamo a vedere, dopo l'anno della pandemia in realtà Ferrara, il capoluogo, la provincia, ha numeri importanti di previsione di crescita. Noi abbiamo un'occasione, quando dico noi tutti insieme e quindi anche il territorio ferrarese, che da un lato il PNRR, dall'altro la partenza dei fondi strutturali, noi già nei prossimi settimane e mesi potremmo già qualche bando farlo uscire per le imprese, per i comuni, per le università. Per la prima volta si scommette in questo territorio, in questa provincia, avendo un'idea di sistema per aggredire i punti di difficoltà che sono sempre stati storici in questo territorio, in un territorio che ha una grande potenzialità. È un territorio che incrocia tutte le grandi reti internazionali. Incrocia la rete internazionale che va in Europa, incrocia la rete verso il porto di Ravenna, che è un porto internazionale, incrocia Bologna, l'Interporto e quindi poi il Brenner, incrocia, devo dire, passare di qui per andare al sud. Guardate che va visto questo patto come una cosa aperta per attrarre investimenti. Sono quattro gli obiettivi specifici per la provincia di Ferrara, oltre a quelli che sono contenuti nel patto regionale per il lavoro e per il clima, perché questo è il focus Ferrara di quel patto, quindi non un documento a sé stante. Da un lato il primo è aggredire l'emergenza demografica e quindi invertire quella che è la curva che negli ultimi anni vede una diminuzione di quelle che sono i cittadini che risiedono in provincia di Ferrara. Il secondo è quella della trasformazione green rispetto a tutti i vari sfaccettature. Il terzo è quella delle connessioni materiali e immateriali, che appunto per una provincia periferica sono estremamente centrali e fondamentali. E il quarto è la nuova e buona occupazione, perché è da lì che bisogna partire per poi raggiungere anche tutti gli altri obiettivi che abbiamo detto. Naturalmente è già da tempo che lavoriamo anche su progetti, soprattutto per costituire all'interno del comune una tax force che possa lavorare ovviamente a questi progetti, progetti di direttrici ovviamente dettate dal piano e anche dai fondi europei e quindi siamo pronti e stiamo lavorando per portare invece al patto questi progetti e quindi di poter agire anche concretamente e dare un nostro contributo al patto per il lavoro per il clima che riteniamo fondamentale per poter lavorare e far sistema sul territorio e penso che Ferrara e ovviamente anche tutta la sua provincia abbia grandissime potenzialità da questo punto di vista. Con questo patto ha due parole a mio parere fondamentali. La prima è innovazione e la seconda parola fondamentale è strategia. La prima innovazione riguarda soprattutto noi come rappresentanti delle imprese e la prima volta che a Ferrara si costituisce, visto anche la mancanza della Camera di Commercio in questo momento, un gruppo che comprende tutte le dieci associazioni di categoria. Ritengo che ci sia una strategia nel utilizzo di queste risorse che vivono dal PNRR, ma penso che non siano strategie mirate alla singola impresa o alla singola azienda, sono strategie collettive che sicuramente di riflesso porteranno i vantaggi ad ogni singola azienda, ma soprattutto al territorio e ai cittadini. Domani si terrà l'assemblea annuale di CNA, quindi sabato con ospiti molto importanti nella sede di Via Caldirolo, tra cui il ferrarese Patrizio Bianchi che è ministro dell'istruzione e la neoretrice Ramacciotti. Non si trova a mano d'opera, servono istruzione e formazione, quanto emerge dall'ultimo sondaggio CNA di Ferrara che ha coinvolto 320 aziende. Per CNA la formazione è uno dei temi da affrontare con più urgenza, questo è uno dei motivi per cui l'assemblea annuale di CNA di sabato prossimo, 20 novembre, sarà intitolata la conoscenza motore della ripartenza. Invitati il ministro dell'istruzione, il ferrarese Patrizio Bianchi, presente anche la rettrice di Unife, Laura Ramacciotti, dal sondaggio emerge che circa un terzo delle imprese dichiara di cercare nuovo personale. Di questi, circa il 68% ammette di aver riscontrato difficoltà nella ricerca, soprattutto il 70% sottolinea che la difficoltà di trovare personale nasce dalla mancanza delle specifiche figure professionali ricercate, molto meno rappresentate le altre motivazioni, come il reddito di cittadinanza, il 15%, o i candidati non accettano i turni di lavoro proposti, il 4%, e i candidati chiedono retribuzioni più elevate di quelle che si propongono, il 2,7%. Le difficoltà in cui si muovono le aziende a fine 2021 tuttavia non si limitano alla ricerca del personale. Il 42,5% degli imprenditori, per esempio, dichiara di essersi rivolto a una banca per ottenere finanziamenti. Gravi problemi poi nascono dall'approvvigionamento di materie prime. L'88,8% degli imprenditori dichiara che i prezzi praticati dai fornitori sono aumentati e circa il 71% dichiara che sono aumentati i tempi di consegna. Previsioni per il futuro. Il 41,9% degli imprenditori prevede che il fatturato della propria azienda rimarrà invariato nel corso del prossimo anno. Il 40%, al contrario, si aspetta un incremento e solo il 18,1% pensa che il fatturato diminuirà. Ancora economia, perché Berco ha inaugurato un nuovo reparto per la ricerca e lo sviluppo a Copparo, presente all'inaugurazione anche il sindaco Fabrizio Pagnone. Vediamo le immagini. Berco ha inaugurato ufficialmente il nuovo reparto di ricerca e sviluppo a Copparo, nel quale l'azienda ha investito circa un milione di euro. Il nuovo reparto è distribuito su un'area di circa 2000 metri quadri accanto all'ingresso dello stabilimento. La nuova ricerca e sviluppo ospita 23 ricercatori, tra tecnici e ingegneri, divisi in due gruppi, l'ingegnerizzazione di prodotto e il laboratorio metallurgico, a formare così il team tecnologia e innovazione. Nel nuovo reparto trova spazio il rinnovato Banco Provarulli, rinnovate anche le macchine per i test sulle gomme e poi c'è il laboratorio che ospita anche un'innovativa macchina per la misura dell'acciaio e una stampante 3D. Un investimento che per Berco dovrebbe dare un segnale anche al territorio, nei termini di assicurare all'azienda un futuro a lungo termine. Cambiamo totalmente argomento adesso, parliamo di sanità e di situazione coronavirus. Abbiamo fatto il punto con l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, ci sono delle novità per quanto riguarda la campagna vaccinale, abbiamo fatto anche il punto della situazione in questo periodo della pandemia. Siamo in piena quarta ondata, per cui l'incidenza sta sicuramente aumentando, come sta aumentando anche l'R-Conti, ma la situazione ospedaliera è ancora sotto controllo. Siamo sotto il 5% per quello che riguarda i reparti di terapia intensiva, ricordo che il livello di guardia è al 10% e siamo poco sopra il 5% per quello che riguarda i reparti Covid, ricordo che il livello di guardia è al 15%. Questo è l'effetto dei vaccini, perché anche se guardiamo i casi, oggi noi diamo quasi mille casi in Emilia-Romagna, l'anno scorso nell'ondata che ci fu a novembre i casi erano più del doppio e si parlava di decine di decessi al giorno. Quindi la vaccinazione tiene, dobbiamo riuscire a spingerla più in là possibile, noi siamo tra le regioni che hanno vaccinato di più, ma siamo attorno al 90% come prima dose e all'88% come ciclo completo. E poi abbiamo cominciato anche molto bene la vaccinazione delle terze dosi, delle dosi aggiuntive, in particolare per quello che riguarda la popolazione immunodepressa, dove siamo già al 92% del target e siamo primi a livello nazionale per questa popolazione più vulnerabile. e abbiamo vaccinato come terze dosi complessivamente 317 mila persone. Dal 22 di questo mese, quindi fra quattro giorni, tutta la popolazione over 40 che abbia avuto la seconda somministrazione da almeno sei mesi, quindi che abbia esaurito il ciclo vaccinale da almeno sei mesi, sono circa 2 milioni e 200 mila persone che da qui a maggio avranno la possibilità di farsi somministrare la terza dose, potranno farlo dai loro medici di medicina generale, negli hub che ci saranno almeno uno per provincia e dalle farmacie dei servizi, perché più di 200 farmacie vaccineranno in Emilia Romagna, ci si può prenotare tramite il CUP, tramite il fascicolo sanitario elettronico, attraverso appunto il contatto col proprio medico di medicina generale che vaccina, e poi anche con la chiamata attiva che facciamo noi, perché continuiamo a chiamare soprattutto le popolazioni più vulnerabili, appunto quelli che rappresentano il primo target. Passiamo adesso alla cronaca, perché la polizia di Ferrara ha individuato i presunti autori dell'aggressione nei confronti di un ragazzo, aggressione avvenuta in piazza Riostea Ferrara e risalente alla notte tra sabato 6 e domenica 7 novembre scorsi, la squadra mobile ha denunciato 4 ragazzi, due 14 anni e due 19 anni, secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe scoppiata per la richiesta di una sigaretta, uno scambio di battute poi tra il primo aggressore e la vittima avrebbe acceso l'amiccia, gli amici dell'aggressore a quel punto si sarebbero staccati dalla compagnia più ampia, costituita da circa 30 persone, per poi appunto picchiare il ragazzo, le immagini delle telecamere avrebbero aiutato gli investigatori a risalire all'identità degli aggressori, su cui graverà il DASPO Willy, una misura introdotta recentemente che attribuisce al questore il potere di disporre il divieto di accesso e avvicinamento ai luoghi della Movida. E adesso parliamo dei libri, i quaderni del Consorzio di Bonifica di Ferrara che sono stati presentati due giorni fa a Palazzo Naselli i Crispi, siamo all'undicesima edizione e questa racconta la storia di un'antica famiglia ferrarese, la famiglia Passari, curato come sempre da Barbara Guzzone, uno spaccato su 100 anni di storia del territorio ferrarese. Ma che cos'è il quaderno della Bonifica? Lo sentiamo. La nascita dei quaderni della Bonifica risale al 2010, l'anno della fusione di tutti i consorzi di Bonifica ferraresi nell'unico pianura di Ferrara ed è nata quasi per gioco, quasi per sfida, proprio per raccogliere un'eredità raccolta soprattutto negli archivi consorziali che sono una fonte inesauribile di storia sia per quelli che sono gli aspetti territoriali, quindi la storia di bonifiche, la storia della trasformazione del territorio, ma soprattutto anche la storia delle persone che hanno contribuito e collaborato a questa realizzazione. Il protagonista è il territorio ferrarese. Ovviamente la preponderanza è per l'aspetto orientale, quindi le bonifiche più recenti, quelle che hanno portato al prosciugamento delle paludi e quindi alla trasformazione radicale con questo dono di terra al territorio e alla popolazione. Undicesimo quaderno della Bonifica, Barbara Guzzon, persona estremamente in gamba, estremamente precisa e capace, capace di analizzare, capace di raccontare, capace di raccogliere la storia del nostro territorio. Noi siamo orgogliosi come amministratori di questo consorzio, di questa struttura, di poter presentare anche oggi l'undicesimo quaderno di questa collana che è diventata ormai un must. Crediamo che il consorzio abbia bisogno di essere conosciuto. Il nostro è un territorio costruito dall'uomo, un terreno rubato con passione all'acqua, consegnata all'uomo per costruire ricchezza, per costruire lavoro, ma non abbastanza conosciuto. E quindi il lavoro degli ultimi due decenni è tutto un lavoro volto ad un'azione di carattere culturale e conoscitiva per fare in modo che la cittadinanza sia sempre più consapevole dell'importanza del consorzio. Manca più di un mese, ma ormai in centro a Ferrara si sta preparando per festeggiare il Natale, allora il 27 novembre ci sarà la prima accensione delle luminarie. Ma vediamo quali sono gli appuntamenti prossimi in centro a Ferrara. Sono oltre cento i chilometri di strisce luminose a LED che sono state installate in centro storico per il periodo natalizio. L'illuminazione dell'edizione 2021, che sarà accesa per la prima volta il 27 novembre, ha previsto la copertura di nuove aree, prima tra tutte Viale Cavour, che sarà un boulevard di luci a stella che si estenderà dal grattacielo al castello. E in piazza municipale è in arrivo una sfera attraversabile di 5 metri di diametro, interamente illuminata. Novità anche nelle tipologie di installazioni, collocati lampadari tridimensionali, lanterne luminose e anche sfere di luci. Le luminarie, anticipa il sindaco Alan Fabri, valorizzeranno nuove vie e intere nuove aree cittadine. Faranno così la cornice a un programma di eventi che conta diverse novità e alcuni nuovi eventi di avvicinamento al Natale, ha detto il primo cittadino. L'obiettivo, fa sapere l'assessore al commercio Matteo Fornesini, è costruire un'offerta fortemente attrattiva e potenziare anche le iniziative per intercettare il più ampio pubblico possibile. E tra gli appuntamenti natalizi in centro c'è quello di domani sul listone, dove aprirà il CNA Christmas Village, che sarà inaugurato alle ore 15.30 di domani e rimarrà aperto fino al 9 gennaio 2022. La gestione è stata affidata a CNA Provinciale e porterà in centro diversi prodotti, tra cui saranno esposti nelle 12 casette che saranno appoggiate l'una all'altra in modo a non creare un corridoio centrale che avrebbe favorito gli assembramenti. A proposito di appuntamenti, ieri a Bologna è stato inaugurato il Ciocco Show, il paradiso del cioccolato artigianale che è in piazza a Bologna ed è stato definito un bel segnale per la ripartenza. Sentiamo. Dopo un anno di assenza e per la gioia naturalmente di tutti gli appassionati del cioccolato artigianale, torna a Bologna la sedicesima edizione del Ciocco Show. Un'edizione che vuole unire la voglia di gustare tutte le prelibatezze e le trasformazioni del cacao insieme a famiglia ma anche ad amici con la sicurezza di farlo in un luogo attento a tutte le norme anti-Covid. Sono 33 le postazioni che sono state messe a disposizione di CNA Bologna attraverso le quali si potrà fare un racconto vero e proprio del cioccolato. Ci sono praline ma ci sono anche tavolette, cioccolato fondente, cioccolato al latte, mandorle, nocciole, insomma tutto quello che compone uno dei prodotti più amati dagli italiani. È un'edizione particolare e speciale che ci rende orgogliosi, è un segno di ripartenza e capita anche in un momento importante perché sappiamo benissimo che dalla pandemia non ne siamo usciti, è importante comunque dare segnali positivi anche quando potrebbero esserci notizie non necessariamente positive e quindi il nostro intento è che sia un buon auspicio per far ripartire le attività commerciali, per far ripartire le attività dei nostri artigiani e sperando che sia davvero l'ultima edizione fatta con un'ombra di dubbio su quello che sarà il futuro. Quindi ci auguriamo che dopo questa, l'anno prossimo, ci potremo ritrovare dicendo ok, la pandemia ha le spalle e quindi da qui questo è davvero il nuovo inizio. Siamo contentissimi, auguriamo a tutti un buon lavoro, invitiamo tutti i bolognesi e non a passare qui in piazza 20 Settembre dal Chocoscio, un grande segnale di ripartenza, è un appuntamento importante ormai da 16 anni per la città, io ci tengo a ringraziare Elmi e tutti gli organizzatori perché non molti sanno che sono genero di un pasticcere che ha appena chiuso la pasticceria Fontana San Lazzaro dove Elmi ha mosso i primi passi, quindi davvero mi fa molto piacere essere qui, sapendo che fanno tanto bene alle case, alle persone, i dolci che vengono prodotti e la cioccolata artigianale, sottolineiamo, che viene fatta qui e da tutti gli espositori. E con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.